Il girone A comincia con una grande sorpresa, il Civitavecchia Calcio perde contro il V3 Maccarese 0-1. Bianco-neri che passano in vantaggio grazie a Damiani che sigla il gol della vittoria e conquista tre punti importanti per centrare il quarto posto in classifica. Nerazzurri che invece perdono l'occasione di rimanere alle calcania del Lanzio che vince ancora grazie al 3-1 rifilato al Fiano Romano. Ad aprire le marcature ci pensa Regolanti all'undicesimo, mentre al diciassettesimo arriva il 2-0 dei padroni di casa con Bencivenga che riesce a siglare il gol dopo un'azione confusa. Il 3-0 arriva al sessantesimo con Giordani che non si lascia pinotizzare dal portiere avversario, mentre al sessantanovesimo arriva la magra consolazione del Fiano Romano, 3-1 che porta la firma di Paolocci ma che non serve a nulla alla classifica. I padroni di casa infatti scappano in testa a più 8 dai Nerazzurri, mentre il Fiano Romano è 14esimo a 17 punti, soli 2 in meno della Fauci minima, anche 2 di distanza dalla Dispolis sedicesimo. Rimanendo nelle zone basse della classifica, poi l'Indomita Pomezia ha perso il derby contro l'Uni Pomezia per 5-1. Sconfitta molto pesante per i gialloneri che restano all'ultimo posto del girone A di eccellenza con soli 10 punti conquistati nel 19 partite. I rosso-blu invece, grazie a questi tre punti, hanno conquistato il nono posto nel tabellone. Ad aprire le marcature ci pensa Morbidelli che al sesto porta in vantaggio i suoi con un tiro dalla distanza e poi sempre il giocatore dell'Uni Pomezia al tredicesimo cala il raddoppio. Il Tris poi porta la firma di Daniel Rossi che al quarto d'ora trafigge la porta dell'Indomita Pomezia che riesce a reagire solo al trentasettesimo con Simeone che accorcia momentaneamente le distanze con un tocco preciso e sigla il 3-1. L'Uni Pomezia però non sta a guardare al sessantaduesimo sale in cattedra e con Sevieri sigla il gol del 4-1 mentre poi Suffer all'ottantaseiesimo mette la firma finale sulla partita con il 5-1 ed è cinquina per i rosso-blu che conquistano tre punti in una partita molto sentita per Pomezia. Rimanendo nelle zone basse della classifica l'Academy Ladispoli pareggia 1-1 contro il Nettuno, un punto per parte per le due squadre che non permettono a padroni di casa di migliorare la propria posizione in classifica. Ancora sedicesimo posto infatti per i litoranei mentre i verdi-blu sono ora undicesimi e non vincono da quattro partite. Stesso il risultato poi anche in Boreale Donorione, un Aurelio Antica Aurelio 1-1 anche al stadio di Via della Camilluccia con le due squadre che si spartiscono un solo punto. Nero-Viola che salgono al quinto posto mentre l'Aurelio Antica Aurelio rimane alle calcagna del club. Infine nella stessa giornata poi hanno pareggiato anche Campus Euro e Quarto Municipio che concludono il match 0-0 mentre la Strea vince tra 1 contro il Falasca e l'Aminio. Vissezze che invece fa 2-1 contro la Foul.